un po' di disorganizzazione a livello di ingresos, come adesso è di una situazione un po' da ordine, ho pensato proprio a portare i miei ragazzi, quindi era abbassato l'accentramento di nessuno. Quindi non c'erano i miei ragazzi? Guarda, in realtà loro sono rimasti fuori, abbiamo avuto un piccolo battivecco con una sicurezza secondo me poco adatta alla manifestazione, e quindi ho capito un po' fortuna di portare i miei ragazzi a casa. Posso vedere se c'è un po' di deduzione in questo concerto? Vi aspettavate qualcosa di più, qualcosa di più, ci ha aiutato meglio? Guarda, io credo che essendo, purtroppo è una musicista che io avendo un'età un po' più brutta, non è? Però i ragazzi vedo che comunque hanno messo molto passione a questo concerto, quindi secondo me potevano anche organizzarlo in modo più semplice dell'asta, oppure non lo facevano più. Questo è la frequenza di persone che diceva. Quindi siete un po' delusi ragazzi? Sì, abbastanza.